Il primo trofeo della stagione è già in baccheca, lo ha vinto giovedì scorso il Corato battendo 3-1 in trasferta al Vieste nella finale di ritorno di Coppa Italia di Lettanti. Ora le attenzioni tornano a concentrarsi sul campionato di eccellenza, vigilia della 22esima giornata prima delle ultime nove puntate della stagione regolare. Riparte il duello a distanza tra le prime due della classe che si concluderà poi il 5 aprile con lo scontro diretto di Rubo di Puglia. La capolissa Molfetta sale sulla Murgia per sfidare una forte saltamura affamata di punti per tirarsi fuori da una situazione di classifica delicata. Il Corato, distante due lunghezze dalla vetta, scende invece in Valle d'Itria per affrontare un Martina che pian piano si sta riorganizzando sia dal punto di vista societario sia da quello tecnico. Partite insomma che non sono proibitive ma che possono ugualmente nascondere delle insidie. Devono correre parecchio, anche più delle prime due, le squadre che inseguono per giocare i playoff regionali. Il Trani, senza l'infortunato Picci, è chiamato a riscattare allo scivodone interno con l'audace in un altro derby della BAT. Quello che la Vigor giocherà domani a Biceglie con l'Unione Calcio. Squadra in salute, quella allenata da Gigi Di Simone, non distante dalla quota salvezza. Non può concedersi passi falsi, il Barletta è impegnato a San Pietro in lama contro i leccessi della Deghi Calcio. Match point, permanenza o quasi per l'audace che ospita al Manzichiappoli nel San Severo. Ultimo in classifica, ma coriaccio e mai domo in tutte le gare. Completano il programma della giornata numero 22 di eccellenza. Otranto, Vieste, San Marco, Ugento e Team Ortanova-Gallipoli. Quest'ultima partita si giocherà al Cianci di Cerignola. Fischio d'inizio previsto su tutti i campi alle ore 15.